Altri 50.000 euro in buoni per i campi solari. Il comune di Arezzo ha infatti erogato un ulteriore contributo per sostenere le famiglie. 200.000 euro erano i fondi direttamente investiti dall'amministrazione, spiega l'assessore e vice sindaco Lucia Tanti, per mettere così a disposizione buoni famiglie di 150 euro a figlio, finalizzati alle attività ludico-ricreative offerte dalle realtà associative della città. In pochi giorni, grazie ad un sistema fortemente innovativo costruito con l'assessore Manneschi, abbiamo erogato oltre 1.500 buoni che si sono tradotti in una vastissima possibilità per gli utenti in questione di poter usufruire dei servizi estivi. Adesso, con ulteriori 50.000 euro, rimettiamo in moto la macchina, permettendo ancora a 300 bambini di poter usufruire di questa opportunità. Per farlo, basterà accedere al sito del comune ed inserire i dati con un clic e poi si otterranno i buoni. Da una parte, conclude il vice sindaco, tutte le famiglie retine, dall'altra una lista di realtà associative che mettono a disposizione la loro professionalità nel mezzo il comune, che oltre a derogare risorse per facilitare le famiglie a non rinunciare ad un'opportunità così importante in questo momento storico, garantisce che le realtà associative siano all'altezza della sfida, inserendole dopo un'analisi precisa in un portale di qualità e semplice da utilizzare. Grazie.